Io vorrei approfittare Lorenzo per parlarti brevemente di questo progetto, questo progetto sui ghiacciai che sono un po' il nostro archivio storico con Fabrizio Piccarolo. Fabrizio, c'è questo progetto Climada, velocemente, in che cosa consiste per la salvaguardia dei nostri ghiacciai e della nostra storia? Il progetto Climada ha lo scopo di ricostruire la storia meteoclimatica e ambientale che era chiusa nei dati che ci fornisce il ghiacciaio. I ghiacciai sono appunto un archivio storico impressionante, custodiscono particelle atmosferiche, pollini, minerali di millenni. Col progetto Climada siamo andati a perforare il ghiacciaio della Damello fino al fondo, fino a 230 metri, estraendo le carote di ghiaccio e analizzandole, questo ci permette di ricostruire appunto la storia.